Questa regione, la regione di Miradici, mio nonno di Torona Castello, è molto orgoglioso per le calabresi e molto contento per suonare qui stasera. Torna alle sue radici John Patitucci, uno dei protagonisti del Peperoncino Jazz Festival, non solo musica ma anche tradizione e cultura nella Kermess itinerante che celebra la calabresità nel mondo. Il turismo delle radici è una forma di turismo estremamente rilevante per noi che siamo territorio di migrazione da sempre, parliamo appunto di persone di origine locale che ritornano loro, anche i loro discendenti, che ritornano in vacanza ed è un viaggio identitario perché ritornano proprio per riallacciarsi con la loro cultura di origine, con la loro terra di origine. Sergio e la famiglia, adesso la mia famiglia, si molto piace, i concerti in tutta Calabria, in posti bellissimi, speciali, io ho molto cuore e anima, si amo.